Benvenuti, siamo qui, dietro le quinte di terra come di show, come vedete, questo è il camerino di presentatore. No, no, c'è poco da riprendere. È la disfatta della televisione come la conosciamo. No, sto scherzando, è un grande programma. Ho deciso di chiamare quattro geni, ma che dico geni? Quattro premi Nobel, quattro statistici, ma non c'hanno risposto. E quindi con noi abbiamo Corrale Luzzo. Molto, molto carico a molla per questo show. Sono veramente entusiasta. Soltanto un team che in questo programma può permetterci di vincere tutto, siamo io. Speriamo bene, speriamo bene, ma c'è un po' pesante, si può di mal di pancia. Io in realtà ho un pochino d'ansia perché io vado in competizione su queste cose e per fare in modo di non avere l'ansia ho bevuto tre bicchieri di vino. Molta attenzione, la si può tagliare con un grissino. È quella. È quella. Grazie.